Gira questa voce. Che quando ci sono dei detenuti che possono creare delle rogne, lui dice, mandateli a me. È su questo che ci ha costruito una carriera. Io qui dentro faccio quello che voglio. È chiaro? Che è successo? Ha ammazzato Nicola. Sono stati due pezzi di merda, direttore. Io devo sapere delle cose. Quindi le serve una spia. Diciamo che ti conviene. Lei era molto amico del comandante. Amico a dire poco. Non va bene che vieni qui così. Mi mancava la tele. Sei a pezzi, eh? Che dicono di noi ai servizi? Qua dentro c'è un sistema. Io devo scoprire come funziona. Questo libro lo fanno i detenuti, no? Sì. Comunicano con l'esterno o con quelli? Lei non è data il casino che c'è lì dentro. Se c'è un pericolo che passa dal tuo carcere, l'antiterrorismo lo deve sapere. E meglio se mi dici subito quello che state combinando. Tanto la polizia ci arriva lo stesso. Però è meglio per tutti se ci arrivo prima io, credimi. Il nostro lavoro è difficile. È difficile farlo bene senza sporcarsi. Il mare è contagioso. Siamo soli qui dentro. Se pensano che possono lasciarlo bruciare. Non hanno capito con chi hanno a che fare. Abbiamo perso il controllo di casa nostra. E io allora dico... Riprendiamocelo. La prosologia. Hai papieros хл mouth. Ecco qua a te see. E io adesso Cosa controllare. E io adesso ho e giù ho Grazie a tutti